Ciao a tutti, benvenuti al video speciale per i 15.000 iscritti Rega, finalmente siamo riusciti ad arrivare ai 15.000 iscritti SEEEEEE SEEEEEE Ci tenevo a ringraziare tutti quanti per l'iscrizione Perché siamo arrivati a 15.000 Ovviamente Io non mi aspettavo di arrivare a 15.000 iscritti Mi aspettavo di arrivare a qualcosa come 1000 A 1000 ci arrivavo sicuro Questo era sodato E appunto credo che sia venuto il momento di prendersi una piccola pausa Allora perché ho scelto questo titolo qui? Semplicemente sono due anni che carico due video a settimana Cioè sono due anni in cui carico due video a settimana continuamente ragazzi A parte qualche eccezione Ho fatto una pausa di un mese, un anno fa Ci sono state qualche settimane nelle quali ho caricato soltanto un video Però comunque ho avuto costante diciamo Siamo arrivati appunto a questo punto del mio canale Appunto a questo punto Insight Joke E ragazzi mi sono un po' stancato Di fare i tp Allora so la cosa è triste Però sì mi sono stancato Dopo due anni io ho Veramente no Ho finito le idee Non so più che fare A parte strane source e roba simile E c'è un casino di collab da finire Da caricare e tutto il resto Quindi ho deciso di prendermi questo periodo di pausa Diciamo Che questo periodo piccolo di pausa Perché non credo che duri tanto Diciamo due tre mesi Massimo In cui non usciranno video miei personali Ma usciranno collab Quindi video miei inseriti in altri video Oppure video di altri inseriti nei miei Roba simile Quindi Mi concentrerò sulle collab in questo periodo Per finirle Perché ragazzi sono pieno di collab da caricare E non so più come fare E non riesco più a pensare E non riesco più a pensare E non riesco più a pensare ai miei video Cioè E poi sono anche stanco di Di youtube Perché è successo un casino dietro l'altro In questo periodo Hanno chiuso il canale di Capra Strabica Ormai chiudevano quello di Bovino Mi sa che è ancora in pericolo Mi sembra Mi hanno chiuso un casino di video Ho dovuto ricaricare un bordello di roba Ragazzi youtube non vuole che Le tipisti hanno Su questo Su questa piattaforma Youtube le rigetta Le vomita Perché è materiale che Che non è adatto a un certo Un certo tipo di pubblico È materiale singolare Quindi appunto anche G Troppo Ho saputo che ho avuto problemi Ho fatto dei video Un sacco di gente ragazzi Quindi mi sto anche perdendo la voglia Anche per questo Perché appunto Non c'è possibilità A noi pooper Di sfruttare la nostra creatività A discapito appunto Delle nostre creazioni Vengono promosse Altre stronzate Inutili Quindi Questo è quello che avevo da dire Ci sarà una pausa Poi cosa posso dire Vediamo Niente io vi ringrazio ancora Per questo traguardo Non mi aspettavo di raggiungere 15 mila iscritti Speriamo di non andare oltre Perché siete dei pazzi maniaci Vi bastano quelli che ho L'importante è che non Non smettano mai Di seguirmi Io spero Nella fidelizzazione Quindi seguitemi ragazzi Non andate via Non andate via Non andate via Basta Questo Questo è il fatto Quindi Noi ci vediamo fra un po' Vedete i miei video Caricherò la collab Eccetera eccetera E niente rega Magari farò uscire qualche video Non itp Perché mi piace parlare Di queste cose qui Nei video Con Mario World In sottofondo fra l'altro Le canzoni che sentite In sottofondo Le trovate scritte Cioè in basso Dovrebbe esserti scritto Il nome della canzone Poi avevo pensato Di creare un canale di musica Perché appunto Molto spesso Sotto i miei video Mi viene sempre chiesto Asso ma che canzone è questa Asso le tue musiche Asso Asso Boh A me piacerebbe anche Rispondervi nel dettaglio Però non so Quanti di voi sarebbero interessati Perché appunto Se volessi parlare di musica Avrebbe un video Incredibilmente lungo E complesso Perché a me piace La musica Mi piace parlarne Quindi Avrebbe per forza Una roba complessa Ci metterei molto impegno Quindi voglio sapere Se Ho un pubblico interessato Se siete interessati appunto A Qualche video sulla musica Non so Comprirò un canale così Tanto per Tanto ormai C'è anche il canale di gameplay Andate a vedere nei consigliati Che è offline Da cinque mesi Non faccio più niente Lì Lasciatelo stare Scherziamo Non andate lì Non andateci a guardarci Sono delle porcate assurde E appunto Se siete interessati a questa cosa Scrivetelo magari qui sotto Però scrivetemelo Anche se non siete interessati Scrivetemi No Non sono interessato Voglio un contatto con voi Veramente Scrivetelo E niente ragazzi Ci vediamo alla prossima È stato bello Baci baci Ci vediamo Ciao 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 Ciao